Come curare la dermatite? È Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video e prima di tuffarci nei meandri della pelle, sentiti libero libera di lasciare un commento, fammi sapere come va, condividi questo video con chi reputi possa avere bisogno di queste informazioni, iscriviti al canale qualora desideri ricevere ulteriori comunicazioni da parte mia, a rimanere aggiornata da ciò che apprendiamo viaggiando in giro per il mondo, dal mondo visibile al mondo invisibile, viaggiando a stretto contatto con maestri dell'India, degli sciamani, del Sud America e mettendo insieme questa comunicazione. Vedi oggi abbiamo questa risorsa straordinaria che è internet, che ci permette anche di divulgare queste informazioni, quindi insieme possiamo fare qualcosa di straordinario, io ti porto questa conoscenza e insieme possiamo diffonderla, possiamo renderla virale là fuori, a quante più persone possibili, perché credo che ci sia proprio bisogno di vivere con più pace, più serenità, più armonia. E la dermatite a volte non ti fa stare bene. Prima cosa che ti suggerisco di fare è leggere un libro meraviglioso che si chiama La terapia verbale della mia amica Gabriella Mereo, che ti dà una visione differente della malattia. È importante, ormai io non ti sto a dire le cose che già ti dicono tutti, che trovi là fuori nel mondo tradizionale, quelle robe lì già le conosci, eccetera. Ti dico delle cose diverse che non vengono diffuse in maniera profonda e che però sono estremamente efficaci. Quindi primo passo, non solo per la dermatite, ma a livello generale comprendere la malattia così come la descrive Gabriella è utile per tutti. Quindi è un libro che qualsiasi persona dovrebbe avere. Quindi ti lasci i riferimenti per ordinarti il libro e leggerlo qualora tu non l'abbia già iniziato a leggere. Primo passo. Secondo passo ci sono delle piante sensazionali che aiutano a alleviare questa problematica. Una fra tutte è l'aloe, l'aloe vera. L'aloe vera ha delle proprietà pazzesche sulla pelle. Quindi l'aloe la puoi applicare a livello topico, quindi te la puoi applicare sulla pelle, oppure la puoi bere. Ok. E purtroppo le legislazioni internazionali vogliono sempre di più togliere i principi attivi alle piante. E quindi che cosa succede? Che ci sono tante piante che vengono vendute in modo commerciale che non danno più beneficio. Stando in Sud America mi sono reso conto del potere di questa pianta. Però quando viene assunto direttamente dalla pianta, dalla foglia. Allora se decidi di prendere la foglia e quindi magari ti compri una pianta di aloe e te la tieni in casa, che è sempre cosa buona e giusta, perché l'aloe ha anche questo grande potere. È un metal detector l'aloe. Verifica se ci sono energie negative nella casa, nel luogo. Ok. Se tu hai una pianta di aloe e vedi che schiatta, dopo poco c'è qualcosa che non va nell'aria. Di dove sei, dove sei immerso. Quindi è una pianta meravigliosa da avere in casa anche da questo punto di vista. In Sud America molti la utilizzano proprio con questo scopo. E quindi come utilizzare la pianta dell'aloe? Semplicemente tagli una foglia, la taglia alla radice, alla base, e cerca di prendere delle foglie che siano belle carnose. Ok. Non prendere delle foglie che sono striminzite. Si dice che la foglia raggiunga il suo livello massimo di maturità ai 3, 4, 5 anni. Ok. Lì proprio il suo massimo, le piante che abbiano questo tipo di età, questa età. E prendi delle foglie, beh le vedi comunque, poi anche a occhio ti rendi conto se c'è della polpa oppure no. Prendi delle foglie, belle cicciottelle, che abbiano del contenuto dentro. La taglia alla base. Dopodiché tagli aloe vera, mi raccomando. Non è che ci sia l'aloe finta, è proprio la tipologia di aloe. Ci sono diverse, è un po' come i cani, ci sono tante razze diverse, ci sono tante razze diverse, specie diverse di aloe. Quindi quella che ti serve è l'aloe vera. Nel frattempo il gigio e il gigio, il gigio e la cia cia stanno facendo a botte. È giusto, tutto lo spazio che c'è, proprio sempre qua, vogliono intervenire anche loro nei video e darti il loro contributo. E quindi prendi, quindi l'aloe vera, si chiama così, ma magari già la conosci perché ormai quando ho iniziato a parlare dell'aloe vera, anni fa non la conosceva nessuno, oggi la conoscono quasi tutti questa pianta, straordinaria. Prendi la parte esterna, la tagli, l'aloe vera, le foglie dell'aloe vera hanno degli spunzoni, quelli lì li tagli, tagli la base, tagli la parte in alto e le metti a mollo in una brocca d'acqua, ok, per 24 ore. Quindi lasci che l'aloe vera tiri via tutta la parte che non serve. A questo punto, se vuoi utilizzare la pianta da un punto di vista topico, quindi sulla pelle, taglierai il cubetto che ti serve della foglia e te lo metti sulla pelle, nella zona dove senti che hai bisogno. Estremamente utile questa pianta anche quando ti scotti al sole, quando ti bruci, è un pronto soccorso naturale straordinario. Quindi questo è un rimedio. Qualora tu lo volessi bere, tagli la parte esterna, quindi della foglia, la parte verde scura, la togli, la corteccia della foglia, la tagli, la elimini, quella non la prendi, prendi solo la polpa interna e quella polpa la puoi mettere nel frullatore e magari mescolarla con dell'ananas o qualcosa di più gradevole, perché l'aloe non ha un sapore gradevole. Anzi, l'effetto dell'aloe potrebbe essere quello di depurarti, depurarti. A volte le problematiche collegate con la pelle sono dovute. Uno, a livello mentale, emozionale, è una problematica generalmente correlata con la comunicazione con gli altri, quindi con la relazione con gli altri. Dall'altro lato c'è bisogno di depurare l'intestino, quindi l'aloe in questo ha una proprietà straordinaria, riesce a depurare l'intestino in maniera efficace e quindi poi ti senti meglio e quindi anche la pelle migliora, tutto migliora e pipurrà e pipurrà. Grazie a tutti. Quindi con l'aloe hai queste due possibilità. La usi a livello topico esterno oppure te la bevi. Puoi fare dei cicli con l'aloe, quindi vedi poi come va, come migliora la situazione. Quindi primo passo, leggiti il libro, anzi studiati il libro di Gabriella. Secondo passo puoi utilizzare l'aloe. Terzo passo è quello di fare una depurazione molto profonda. La depurazione del corpo a livello fisico, mentale, emozionale. La depurazione più potente che io conosca è la depurazione collegata con il mapaccio, che è questa pianta che proviene dalla selva ammazzonica. E in questo caso ti lascio dei riferimenti anche per quanto riguarda il mapaccio, così puoi approfondire ulteriormente la conoscenza di questa pianta. E ti dico, ho conosciuto diversi programmi detox, proveniente dal mondo vedico indiano, del digiuni, eccetera. Tuttavia il mapaccio è ciò che di più poderoso io abbia mai conosciuto nella mia vita. È una depurazione incredibile, è una depurazione fisica pazzesca. Io ho visto persone che hanno ottenuto dei benefici enormi, incredibili, grazie all'utilizzo del mapaccio. Quindi il mapaccio ha questa grande proprietà di depurare. Quindi una volta che hai compreso, e tra l'altro ti fa comprendere anche a livello mentale ed emozionale alcune difficoltà che magari non stai vedendo nella tua vita, perché la malattia, i disturbi, arrivano nella maggior parte dei casi, nella gran maggior parte dei casi, perché ti devono insegnare un qualche cosa che probabilmente non stai comprendendo. Bene, il mapaccio ti aiuta a entrare in introspezione, e a comprendere determinate dinamiche che sono estremamente importanti per la tua vita. E quindi nel momento in cui le comprendi, ti sani. E quindi è poderoso anche per questo. È una depurazione, come ti dicevo, fisica, perché uno può pensare che la dermatite è una roba solo fisica, ma in realtà non è così. Siamo a 360 gradi. Noi non siamo il nostro corpo, tu non sei il tuo corpo, non sei la tua pelle, no, sei molto di più. E quindi è importante comprendere le cose a 360 gradi, comprendere le cose da un punto di vista fisico, mentale, emozionale. E il mapaccio in questo ti aiuta tantissimo. Con questo è tutto, mi auguro che ti possano essere utili questi rimedi, fammi sapere come sta andando, sentiti libero libera, di condividere, lasciare un commento, lasciare un like sotto questo video, di modo che sappiamo qual è la direzione degli argomenti che sono più utili alle persone che ci seguono. Con questo è tutto, da Luca Luna è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!